La pastorale della salute offre una grande opportunità alla riflessione bioetica nei luoghi della cura in quanto la richiama ad avvicinarsi alla persona del malato e alla persona di chi si prende cura di lui, i medici e gli infermieri. È un invito, quello che ci proviene dalla pastorale, ad una bioetica prossimale, non distale dalla sofferenza, ad una bioetica che si china sempre di più sull'uomo malato e sull'uomo che si prende cura del malato. La bioetica ha un compito importante di provocare la medicina a rimettere al centro la relazione tra medico e paziente, una relazione che da sempre la Chiesa, attraverso la sua azione pastorale nei luoghi della cura, promuove e sostiene.